Nina Moric ci va pesante con Paola Ferrari. La modella ha pubblicato una foto della nota giornalista sportiva attualmente impegnata in Rai con gli europei di calcio in cui effettivamente dalle gambe accavallate spunta un pochina di cellulite. Il commento di Nina Moric però è stato davvero impietoso. Comunque io in Rai non potrei mai lavorare perché Equitalia mi porterebbe via i soldi grazie al mio matrimonio in comunione dei beni. Tuttavia piuttosto che vedere questa cellulite e questa pelle a buccia d'arancia ci vado anche gratis, ha scritto l'ex moglie di Fabrizio Corona. Le parole di Nina Moric non sono passate inosservate e moltissimi anche tra i suoi stessi followers stavolta l'hanno bacchettata, facendole soprattutto notare che per essere così belle ed in forma lei è ampiamente ricorsa alla chirurgia estetica. Una ragazza ad esempio le ha scritto Nina, tu sei una bellissima donna, non ti manca niente, sei meravigliosa, hai un fisico da paura, ma se posso permettermi, perché sminuire così questa donna? La risposta non è tardata ad arrivare e contrariamente allo stile sempre un po' erruento della modella è stata piuttosto pacata. No, niente, la trovo comunque attraente, ma se hai la cellulite così evidente metti i pantaloni, tutto qui. E qualche risposta analoga alla scritta anche ad altri utenti. Nessuna polemica quindi, almeno non stavolta, ma solo un invito ad apparire un po' più sobria vista anche l'età di Paola Ferrari, la quale si è guardata bene dal commentare, forse per non alimentare la querelle.